Il lancio di Cupra Born 2021 unisce la mobilità sostenibile al dinamismo delle auto del brand sportivo, presentando un prodotto unico, perfetto per chi vuole la tecnologia più avanzata con il minimo impatto ambientale. Ecco le sue caratteristiche e i prezzi di vendita. Design interni di Cupra Born. Cupra Born è una compatta totalmente elettrica che si presenta con un aspetto sportivo ma elegante, presentata virtualmente il 25 maggio 2021. Nasce sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen e sulle basi della concept City Born, da cui però si è poi discostata durante lo sviluppo finale. La parentela più stretta è infatti quella con Volkswagen ID.3, con cui condivide piattaforma, passo e larghezza, mentre la lunghezza cresce di 6 cm, diventando di 4,32 metri. Nonostante queste somiglianze, l'aspetto della Cupra Born è unico, con il frontale e la coda grintossi dotati di fari a LED allungati, che uniti alla calandra e alle prese d'aria esprimono appieno il carattere del brand spagnolo. A completare l'insieme non mancano gli ormai classici inserti color rame su carrozzeria e ruote. L'abitacolo della vettura riporta però alla parentela con l'ID.3, avendo due display, uno per la strumentazione e l'altro per l'infotainment, inoltre, come già avviene per molte delle nuove auto elettriche, numerose parti sono state realizzate con materiali riciclati, come l'inserto dei sedili in Seacquali Arn, un filato ricavato dalla plastica raccolta nei mari, e la microfibra dinamica usata per i rivestimenti. A completare la dotazione ci sono poi Android Auto e Apple CarPlay, oltre alla SIM incorporata che permette alla vettura di essere sempre connessa. Per attivare il sistema multimediale dell'auto ci sono anche i comandi vocali attivabili pronunciando la frase OLA, OLA. Motori e prestazioni di Cupra Born. Nuova Cupra Born sarà disponibile inizialmente in due livelli di potenza, quella base dotata di batteria da 45kWh con 150 CV e la versione e-boost da 58kWh e 204 CV. In entrambe, la coppia viene ripartita al posteriore con cambio monomarcia e relativo differenziale, con lo scatto da 0 a 100 kmH, che va dagli 8,9 secondi ai 6,6. A oggi le autonomie variano rispettivamente tra 340 e 540 km, e la wallbox di ricarica è disponibile anche con Wi-Fi e connettività 4G. Dal 2022 sarà poi disponibile anche un altro pack e bus che porterà la potenza del motore elettrico a 231 CV, con la possibilità di scelta tra batterie da 58 o 77kWh. Born è completa di vari dispositivi che migliorano la sicurezza di guida, tra cui l'head-up display, optional, la deputy cruise control predittivo, il travel e-amp.e virgola lane assist, il traffic sign recognition, il sistema side and exit assist, l'emergency e-amp.e virgola pre-crash assist, e la chiamata di soccorso e call. La dinamica di marcia è controllabile e variabile scegliendo tra le modalità di guida range, massima autonomia, comfort, individual, autodefinibile, e Cupra, la più sportiva, che interviene anche sull'assetto con la regolazione elettronica delle sospensioni. Una curiosità, il climatizzatore funziona attraverso una pompa di calore che ne aumenta l'efficienza. Allestimenti e prezzi di Cupra Born Gli allestimenti di Cupra Born non sono ancora noti, visto che l'arrivo nei concessionari della nuova cinque porte elettrica sportiva è previsto per la seconda metà del 2021, con prezzi annunciati a partire da 32.950 euro. Cupra Born sarà assemblata in Germania, a Wico, e il presidente di Cupra, Wayne Griffiths ha dichiarato, Born vanta tutti i geni. Del marchio Cupra, abbiamo portato il concept originario a un livello superiore, creando un nuovo design sportivo e dinamico e lavorando ulteriormente al contenuto tecnologico dal punto di vista ingegneristico. Cupra Born è la prova vivente che prestazioni ed elettrificazione possono essere un connubio perfetto.